Il progetto di riqualificazione della viabilità dell'area portuale di Pescara-Portanuova è stato presentato questa mattina in Commissione Lavori Pubblici, presieduta da Massimo Pastore. I lavori del maxiprogetto, condiviso da Comune Anas, saranno appaltati entro l'estate e potrebbero terminare già nel 2023, come spiegato dal Sindaco di Pescara Carlo Masci. Con i 15 milioni di euro che abbiamo dal Ministero delle Infrastrutture, una dotazione che c'era da circa 10 anni, che però non era mai stata utilizzata, noi abbiamo accelerato tutte le procedure per fare degli interventi che cambieranno il volto della città, soprattutto nella zona del lungo fiume, quindi via Andrea Doria. Quando noi parlavamo del prolungamento dell'asse attrezzato, ci riferivamo a un cambiamento totale della viabilità di via Andrea Doria, cioè l'allargamento di via Andrea Doria, ma soprattutto l'utilizzo della parte del fiume che oggi non è utilizzata, praticamente la passeggiata sul lungo fiume sud che noi realizzeremo cambiando totalmente la zona del molo sud, poi faremo l'intervento sulla riviera sud, completeremo il tratto da via Vespucci al fiume e la uniformeremo, quell'area, alla situazione che già c'è nella zona più a sud, in modo da cambiare totalmente il volto di quella zona. Diventerà una zona di una bellezza di livello qualitativo altissimo. Poi apriremo finalmente il tratto di strada di via Benedetto Croce che arriva fino a via Vespucci, che oggi è una strozzatura che impedisce la viabilità verso il fiume dallo stadio e quindi creeremo un'altra direttrice importante che dallo stadio arriva fino al fiume. Poi abbatteremo lo svincolo dell'asse attrezzato a Trombetta nella zona della Pineta, in modo da ricreare condizioni diverse. Oggi quello svincolo è un detrattore ambientale, al ridosso della Pineta lo elimineremo e questo ci permetterà poi di intervenire sull'ampliamento della Pineta e quindi la unione dei due comparti, il 4 e 5. Questa era una cosa attesa da almeno 20 anni. C'è già un cronoprogramma dei lavori? Oramai i progetti esecutivi sono pronti, ci sono gli ultimi passaggi delle conferenze di servizi, poi ci sarà la gara pubblica per fare questi interventi. Entro fine estate potranno partire questi lavori, diciamo che entro il 2022 questi lavori si cominceranno a vedere, credo che nel 2023 poi si realizzeranno totalmente.